E' ormai un appuntamento classico dell'estate pescarese, ma non solo, il Giulio Cesare che viene riproposto anche in questo mese di agosto. William Zola, ormai avete abituato bene i tanti appassionati di teatro della nostra città, ma non solo, anche i tanti turisti. Direi che è un appuntamento ormai consolidato. Shakespeare lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, sui nostri spiriti, soprattutto da 13-14 anni e continueremo a farlo. A breve avremo anche una novità importante che annungeremo al momento opportuno. Questo spettacolo avrà anche una coda, fra virgolette, ai primi di settembre con i quartieri della città di Pescara, quindi uno Shakespeare nostro contemporaneo, quindi che va a trovare anche il pubblico invece di aspettarlo soltanto. E' un lavoro importante del momento maggiore, della creatività, della maturità di William Shakespeare. Anticipa di un anno l'amleto, che è il paradigma un po' del lavoro del canone shakespeariano, ed è un lavoro molto importante. Ci appartiene il nostro DNA, la nostra storia, le iddi di marzo, la politica, insomma, tutto viene un po' da lì. Tutto un po' comincia da brutto, da questa crisi di coscienza, in questo conflitto fra la passione e la ragione, e quindi fra la Repubblica e una ipotesi di dittatura. Quindi, insomma, credo che ci siano un po' tutte le componenti anche di nostra attualità che stiamo vivendo in questo tempo. La LAD coproduce da sempre, da quando è nata, la Torre del Bardo. C'è questa collaborazione simbiotica con la LAD. Porto il saluto della Presidente e dottoressa Vera de Gregoris. Diceva il maestro Zola ai ruoli femminili. In realtà i ruoli femminili, essendo comunque un universo al maschile, quello del Giulio Cesare, si limitano a due. Però sono due ruoli a loro modo importanti. Abbiamo Porzia, moglie di Bruto e figlia di Catone, che comunque vuole partecipare, sapere, vuole partecipare, del dramma emotivo e anche politico del marito. Perché comunque, crede anche lei, ama moltissimo Bruto e crede nei valori repubblicani di Bruto. Quindi lo seguirà fino alle estreme conseguenze, che in quel caso sono il suicidio. Perché?